Pescara è tra le città e le province italiane in cui si invecchia meglio e più a lungo. A dirlo è una classifica stilata dal Sole 24 Ore che ha dato i voti alle 107 province italiane in base a 12 diversi parametri, tra cui l'incidenza delle malattie sul territorio, la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, oltre alle modalità per cercare il posto migliore dove curarsi. Pescara dunque è seconda in classifica dietro soltanto a Bolzano e stacca nettamente le altre province abruzzesi, la prima delle quali Chieti è posizionata a metà classifica, cioè al 44esimo posto seguita dall'Aquila e Teramo. Quella fatta dal Sole 24 Ore è una fotografia complessa con la classifica finale, seconda tappa di avvicinamento all'edizione della Qualità della Vita 2019 nel trentesimo anniversario dell'indagine che misura i livelli di benessere sul territorio ed è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori. nei singoli indicatori che a loro volta incarlano tre aspetti fondamentali della salute, performance demografiche registrate negli ultimi anni, ad esempio l'incremento della speranza di vita alla nascita, i fenomeni sociosanitari come la mortalità annua per tumore, per infarto e il consumo di farmaci, i livelli di accesso ai servizi sanitari, dall'immigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici. I dati più positivi in generale arrivano dalle province del Trentino Alto Adige, seguite dalla Sardegna e dalla Lombardia, mentre le performance più negative, sempre su base regionale, sono quelle di Lazio, Basilicata e Campania. Tra i dati negativi da migliorare sicuramente quello del differenziale tra le possibilità di cura nelle aree interne e lungo la costa. L'indicatore che fotografa i pazienti dismessi dagli ospedali fuori dalla regione di residenza e quindi costretti a farsi curare lontano da casa, registra il picco negativo a Isernia, preceduta dall'Aquila in Matera. Il fenomeno, come dimostrano le ultime dieci classificate, interessa principalmente le province del centro Italia, di Abruzzo e Lazio e del sud, Basilicata, Calabria e Molise.